E ciao a tutti, qui per un nuovo video su eFootball Oggi abbiamo un contratto nuovo da scartare Più gioco bonus che dovrebbe darci Però un nuovo giocatore Quindi andiamo a fare subito il gioco bonus E vediamo un poco, vediamo un poco Oggi, dai, il nostro castollo Segnaci anche oggi, dai Centrale la facciamo, bene così Entrata Quindi Si va subito in rete Eccola qua, casella raggiunta Worldwide E qua dovrebbe andare avanti le altre caselle Naturalmente, ok, ottimo E prossimo saranno 50.000 GP di premio Ok Ok Ora andiamo a vedere subito il giocatore Che ci è stato dato con il contratto a buio Prendiamo tutto, naturalmente Ecco qua i contratti Allora, contratte speciali Intanto c'è ancora Ronaldo Qua ci sto ancora pensando se farlo No, ho 12 giorni di tempo per farlo intanto Quindi, ah bene Comunque rimane l'obiettivo Anche se becchiamo costa curta di là Ci risolve altri problemi ancora E costa curta Perché arriva a 100 Invece Nannetz 99 arriverà comunque Va bene lo stesso Andiamo subito a vedere E bastoni Abbiamo preso bastoni Bastoni, bastoni 83 DC Ok Questo non arriverà probabilmente a 98 Cioè a 99 come quello lì Che aveva in precedenza nazionale Fortissimo quello Però ce lo teniamo Vediamo qua Che ci regala Allora, qua abbiamo Ah, ce l'abbiamo pure quest'altro Abbiamo costa curta Maradona Coble E Cristiano Ronaldo Questo dovrebbe arrivare a 99 Poi andremo a vedere Se è più forte Di quello che abbiamo già Magari Facciamo un confronto Allora Quindi Andiamo subito Ad aprire il pacchetto Sì Gratis Vediamo un poco Chi becchiamo Dai Nuo animazione Non ci sono fuochi d'artificio Quindi potrebbe essere Non una leggenda E infatti abbiamo beccato Beccato Ronaldo Ronaldo Questo qua Arriva a 99 99 Cristiano Ronaldo Ce lo prendiamo anche questo Piccola animazione per lui 96 di base Però poi arriva a 99 Colpo di testa Possiamo poi andare a fare un confronto Per vedere Quale è più forte Ovviamente più forte Resterà sicuramente questo qua Dalle FC Champions League Però Anche gli altri Non scherzano Mi ha fatto 323 gol In 240 Presenze Una roba del genere Ronaldo E poi Qua vabbè non ce l'abbiamo più niente Questi qua L'abbiamo fatti Ok 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 Quindi abbiamo preso tutti Peccato che non ci ha dato subito La leggenda Per oggi Finisce qui il video Abbiamo visto il gioco bonus Che abbiamo trovato E ci vediamo Al prossimo video Naturalmente iscrivetevi al canale Se volete essere sempre aggiornati Su tutti i video che faccio Comprese anche le live Che sto facendo di recente Ciao a tutti Ciao a tutti